Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante e classico episodio. In questo video ti parlerò di come preparare un ginfiz in maniera corretta. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satrio, Liquore Pineta, Vermouth Mita, Liquore Fore e Liquore Fenù. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.mitaspirits.com Ma ora, in compagnia di Infinity, che conta il tempo in maniera del tutto rivoluzionare, andiamo a scoprire come preparare il nostro ginfiz. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Dindo, ti invito a dare un'occhiata anche a tutte le descrizioni dei nostri video, perché oltre a trovare la descrizione del video stesso, trovi anche eventuali aggiornamenti. Ma veniamo a noi. Il ginfiz è un drink vecchiotto, ma rimane sempre giovanotto, fatto anche la rima. Infatti, tracce di questa ricetta si trovano nel Jerry Thomas Bartender's Guide del 1887, quindi diciamo un po' di tempo ce l'ha. È un drink che è andato di grande, diciamo era di moda negli anni 40, ma in realtà tuttora si difende molto bene, perché è un drink ancora abbastanza ordinato ai banchi bar. Diciamo che negli anni 40 era un po' come lo spritz di adesso, uno diceva fammi uno spritz, anzi fammi un fritz. La categoria di appartenenza di questo drink è appunto la categoria Fizz, che hanno questa frizzantezza, perché Fizz significa appunto frizzante o comunque effervescente. Questo drink viene appunto shakerato e poi viene aggiunto un sodato, quindi in realtà viene aggiunto proprio un po' di soda. Caratteristiche di questo drink? È un drink bello piacevole e soprattutto tendente un po' all'aciduo, quindi bello rinfrescante e dissetante, soprattutto nel periodo estivo. Però io dico sempre che comunque può far caldo anche in inverno se ti metti vicino al camino. Colore bello giallo paglierino, un odore che richiama molto il limone, quindi questa nota bella fresca di limone. Capitolo bicchieri, viene servito in un highball o comunque tumbler alto, c'è chi lo serve senza ghiaccio e chi lo serve con il ghiaccio. Chiaramente ti consiglio, visto il quantitativo che rimane sempre comunque un long drink, però se lo serve senza ghiaccio utilizza un tumbler alto un po' meno capiente, perché questo qui insomma è abbastanza grande, infatti è da 450 cl, quindi è bello grande. Tu ti starai chiedendo cosa mi consigli con o senza ghiaccio? Io lo servirei con il ghiaccio, perché comunque il ghiaccio mantiene il drink bello freddo. Diciamo che questo drink è consigliato in estate e se tu servi un drink senza ghiaccio in estate, visti le temperature un po' più calde, tende a riscaldarsi un po' più velocemente e poi soprattutto se ce l'hai in mano, si scalda molto velocemente e bere un Jim Fitz caldo o comunque a temperatura ambiente non è il massimo, è tipo un bradino. Capitolo ghiaccio, chiaramente io consiglio un ghiaccio classico diciamo a cubetti, che è quello che si trova un po' più facilmente, se nel tuo bar o a casa tua hai dei ghiacci diciamo con un taglio speciale, chiaramente è un po' più scenico, tipo se vuoi utilizzare un chunk lo puoi fare, però è un po' più difficile da reperire, è anche un po' più costoso. Gli ingredienti sono 4 più 1, ossia abbiamo bisogno di 4 celle e mezzo di Gin London Dry, 3 celle di succo di limone, 1 celle di sciroppo di zucchero 1 a 1, quindi un simple syrup e della soda, quindi siamo 1, 2, 3, 4, ma ho detto che sono 5, infatti il ghiaccio è il quinto ingrediente e ne abbiamo già parlato abbastanza. Di soda chiaramente andiamo a mettere, c'è chi dice uno splash, in realtà siamo intorno agli 8 cl circa, quindi perché deve essere un drink bello beverino ovviamente. Preparazione l'ho già accennata, andiamo a shakerare i componenti non frizzanti, quindi a parte la soda, shakeriamo tutto insieme e poi andiamo a fare appunto shake and strain over ice, quindi in un bicchiere pieno di ghiaccio, shakeriamo il tutto, filtriamo e poi aggiungiamo la soda. Una leggera stirrata e abbiamo finito. Che dice lo prepariamo sto benedetto drink? E prepariamolo va! Abbiamo detto che andremo a utilizzare un tumbler alto con bello capiente. Nel caso invece nel tuo locale o a casa tua vuoi provare la versione senza ghiaccio ti consiglio comunque di raffreddare il bicchiere, quindi di mettere il ghiaccio nel bicchiere, di raffreddarlo e poi al momento diciamo del servizio quando devi versare nel bicchiere tiri via il ghiaccio e versi il tutto. Il bicchiere l'abbiamo raffreddato, andiamo a mettere il ghiaccio nel nostro tin, raffreddiamo il nostro tin, la 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 la, nel frattempo che si raffredda andiamo a versare i nostri ingredienti, quindi di epilogando abbiamo 4 cl e mezzo di gin london dry. Nel caso non dovessi avere un gin london dry e magari hai un old tom che è leggermente più dolce, a questo punto ti consiglio di aggiungere un po' meno sciroppo di zucchero di cui andremo a versare un cl. Io verso prima lo sciroppo perché è più denso e perché rimane un po' attaccato alle pareti del ghiaccio in questo caso, quindi verserò poi il succo di limone in modo da sciacquare il tutto. 3 celle di succo di limone, se è spremuto fresco meglio ancora, posso versare, posso utilizzare anziché un succo di limone, un succo di lime? E' una variante, posso utilizzare al posto del succo di lime un'altra sostanza acidula? Sì, per esempio io andrò a fare una versione di gin fizzico utilizzando l'acetosella che è appunto un'erba spontanea che ha questo gusto un po' acidulo. Se vuoi essere sicuro e stai interagendo con il cliente, quindi hai il cliente davanti, puoi anche far assaggiare la base di partenza al cliente mettendo una gocciolina sulla mano e facendogli assaggiare, così insomma giocate un pochino. Questo è il nostro punto di partenza, andiamo a togliere l'acqua del ghiaccio che eventualmente si è sciolto, ma in realtà il ghiaccio è bello se non si è sciolto, andiamo a dare una bella cegarata energica. Bene, il nostro bicchiere si sarà raffreddato, gli diamo giusto una leggera girata, anche per farci vedere un po' dal cliente che ci stiamo prendendo cura del suo drink, andiamo a togliere l'acqua in eccesso e andiamo a fare un double straining, questo in realtà non è 100% necessario, è un'opzione che ti consiglio di fare se vuoi appunto rendere il drink anche un po' più, nella preparazione un po' più scenica, serve solo per in questo caso per togliere se c'è qualche pezzettino di ghiaccio un po' più piccolo. Andiamo a questo punto ad aggiungere la nostra soda, mi raccomando bella fredda, circa 8 cl, andiamo a miscelare il tutto, aggiungiamo il subiettino di ghiaccio, decoriamo il drink e come dicono a Venezia, gabbiamo finio! Anche qui sulla decorazione, diciamo, possiamo utilizzare, se stiamo usando chiaramente il limone, andremo ad utilizzare il limone, se utilizziamo un altro agrume, tipo il lime, possiamo mettere il lime, anche se rimane comunque una versione, non l'originale, c'è anche la versione, anziché usare la fetta di limone, di utilizzare la buccia, diciamo che la buccia dà un po' più di aroma e non aggiunge ulteriore acidità al drink, mettendo la fettina di limone, in questo caso, andrà ad aggiungere una leggera nota acidura appunto al drink, anche se è già bello fresco, quindi non credo che faccia una grandissima differenza. Andiamo a mettere il nostro bel sottobicchiere e il nostro drink è bello e pronto per essere servito, cannuccia sì, cannuccia no. Questa è un'opzione e in realtà io lo servirei senza, anche perché la fettina di limone, quando andiamo a bere, va proprio vicino il naso e di conseguenza dà proprio quella sensazione di freschezza. Aggiungere la cannuccia, se il cliente lo richiede, lo possiamo fare, la possiamo aggiungere, però diciamo che la distanza del naso rispetto al bicchiere è un po' più lontano e quindi, diciamo, una parte di esperienza olfattiva viene meno. Posso spruzzare o meno gli oli essenziali? Se vuoi sì, ma è opzionale. Quindi riepilogando posso scegliere di fare dei twist on classic utilizzando un gin, per esempio un gin aromatizzato, io qui ho per esempio un gin all'arancia, al limone o al mandarino, per esempio, e potrei fare una versione andando a creare un twist sul gin. Posso utilizzare un'altra sostanza acidula al posto del succo di limone, ne abbiamo già parlato, posso utilizzare eventualmente uno sciroppo di zucchero aromatizzato? Perché no? In questo caso sono ingredienti homemade, ma ad ogni modo poi dipende dalla disponibilità che hai nel tuo locale o a casa tua. Ad ogni modo, esperimenta e divertiti e qui spazio alla fantasia. Abbiamo quindi parlato del nostro fantastico Jim Fitz. Bevi, mi raccomando, in maniera attenta e responsabile e fai bere bene i tuoi ospiti. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro che dirci, ci vediamo presto, anzi prestissimo. Alla prossima! Ciao!